il trattato di Istanbul ma fondamentalmente non facciamo leggi non le fa la Camera, non le fa il Senato non le fa tutto il Parlamento e quando le leggi vengono fatte il 92% delle leggi poi non trova applicazione nella realtà perché magari ci vuole il decreto attrativo magari ci vuole il regolamento magari la legge non è fatta proprio bene e quindi il regolamento attrativo poi deve trovare un escamotaggio per far riuscire a camminare quella legge quindi tutto quello che noi abbiamo imparato culturalmente quello che noi abbiamo imparato dalla televisione quello che abbiamo imparato studiando dalle scuole elementari fino ad arrivare al liceo alle scuole tecniche, all'università dobbiamo in qualche modo dimenticarlo perché non funziona così è tutta una bugia noi ho capito che un compito che abbiamo come cittadini in Parlamento è quello una volta e per tutti di smascherare un sistema di smascherare quello che loro fanno ogni giorno a discapito di tutti e far comprendere che quel sistema così com'è non funziona più e che crediamo a cose che non sono più vere questo è molto importante perché se noi non smascheriamo il meccanismo non capiremo niente noi non cambieremo mai facendo sì che una legge abbia corso e quindi facciamo una buona legge e pensiamo che abbiamo risolto qualcosa è importante fare una buona legge ma è molto più importante far comprendere a tutta la popolazione come funziona un meccanismo un meccanismo che non schiaccia sassi e che fondamentalmente non rappresenta più le persone non è solo il PD il problema o il PD è l'ex forza Italia NCD bla 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 CCC il problema è che è un sistema che non rappresenta più le persone e noi questo sistema lo dobbiamo cambiare assolutamente e vi dico alcune cose per cui questo sistema noi lo vogliamo combattere lo combattiamo tutti insieme e alcune cose che ci indicano la strada per cui ci stiamo riuscendo man mano in soli dieci mesi sono successe alcune cose nel paese che non erano mai successe prima ragazzi vi chiedo silenzio dietro veramente silenzio dietro venite avanti venite avanti però non posso sentire questo ve lo dico perché se no non sono concentrato e non riesco a parlarvi bene visto che siamo qua anche tutti per ascoltarci dobbiamo fare silenzio quindi anche dietro ripeto quindi stavamo dicendo chi stava seguendo? stavamo dicendo ecco che sono successe delle cose incredibili in questo paese in dieci mesi le larghe intese non erano mai successe prima mai erano sempre stati dei fidanzati nascosti e si sono dovuti mostrare hanno fatto una maggioranza un blocco granitico unico e quindi hanno eletto Napolitano Bissi altra cosa che non era mai successa ai limiti della Costituzione e perché l'hanno eletto? e perché hanno fatto le larghe intese? e perché hanno fatto Napolitano Bissi? e perché hanno fatto l'eletta Presidente del Consiglio? e perché hanno usato la vigliottina? perché uno strumento che non era mai stato usato? e perché in questo momento c'è Renzi Premier ed in questo momento è da Napolitano perché stanno succedendo tutte queste cose in così poco tempo che non erano mai successi in Italia? perché c'è un movimento che è fatto da cittadini che come unico riferimento ai cittadini e quindi dentro il Parlamento non ci accontentiamo di un emennamento di una leggina noi vogliamo cambiare o cambiamo o ce ne torniamo tutti quanti a casa questo è noi facciamo questo proposto bravo bravo e loro ce l'hanno fatto capire benissimo perché la Boldrini ha detto ma non solo Boldrini ho parlato con l'Epifani mi ha confermato la stessa cosa mi hanno detto e hanno detto in tv non c'era mai stata un'opposizione con il coraggio di far decadere un decreto si fermava anche il grande partito comunista questo mi ha detto l'Epifani all'ultimo metro all'ultima ora e poi si mettevano d'accordo nelle segrete stanze e ognuno aveva qualcosa e il decreto andava avanti e veniva approvato per la prima volta nella storia della Repubblica c'è una notizia c'è un'opposizione una vera opposizione e se non fa che se i decreti le leggi non sono in interesse della collettività non le approverà mai non scambiamo niente per niente non facciamo compromessi allora quel giorno noi con il regolamento parlamentare alla mano avevamo vinto la battaglia contro il decreto in Banco Italia quello schifo di decreto quello schifo di decreto e avevamo altre 50 ore in Parlamento da poter durare con gli ordini del giorno le dichiarazioni il complesso degli emendamenti e così via e all'improvviso la Boldrini che cosa fa? mette la ghigliottina la ghigliottina che è solo il nome è qualcosa che ci dà i primidi mette il bavaglio alle opposizioni l'opposizione che davvero non si ferma davanti a niente e fa provare in tre secondi il decreto Imo Banco Italia che regala 7 miliardi e mezzo alle banche e come facciata c'era l'abolizione dell'Imo capito che cosa fanno? questi sono dei disgraziati irresponsabili e poi che cosa succede? la Boldrini sapendo che verrà ricordata e lo dico a tutti lo deve dire a tutti nella storia come la Presidente che ha messo per la prima volta nella ghigliottina uno strumento non previsto dal regolamento parlamentare della Camera dei Deputati mentre lo strutturismo nostro era previsto dal regolamento della Camera dei Deputati che cosa deve fare subito? deve correre da Fabio Fazio in prima serata a che tempo che fa pulirsi la faccia? e che cosa dice per pulirsi la faccia? dice che noi siamo dei diversi eversi allora la prima forza politica del paese che ha preso il 25% viene definita dalla Presidente della Camera che dovrebbe essere a garanzia di tutti una forza eversiva allora io questa cosa qui questa affermazione del Boldrini lo dico comunque non l'accetto non l'accetto e non l'accetterò mai perché io conosco benissimo questa forza eversiva come è nata conosco benissimo come siamo cresciuti e dal 2005 che conosco questo progetto che non c'era e conosco tutte le realtà in Italia allora so monta il gazebo raccogli le firme sotto la pioggia sotto il sole vedi si è stampato il modulo raccogliamo 30 euro per pagare la compisteria la tipografia sono 10 anni 10 anni che raccogliamo firme rispettando tutti i regolamenti e quando presentiamo le firme comuni alle regioni al Parlamento lì i funzionari oppure i cancellieri dei tribunali ci dicono che mai hanno avuto dei moduli così ordinati così fatti bene dove le firme sono quelle vere delle persone che hanno firmato perché volevano che quella lista andasse in comunio che quel progetto andasse in Parlamento non raccoglono le firme dei morti o dei parenti che non sanno nemmeno di che cosa stanno parlando stanno firmando e quindi è questa la forza eversiva che conosco bene e quindi glielo rimando tutto l'eversivo perché da rimossivi ma con detta minimo che era tutto un calcolo assurdo e allucinante che coltiva la stragrande maggioranza dei comuni che nel frattempo a causa di una svista del nostro ministro aveva molti comuni italiani avevano aumentato al massimo le aliquote dell'Imu e quindi nonostante l'abolizione della seconda rata molti cittadini hanno dovuto comunque pagare una certa percentuale ora questo per farvi capire cosa che effettivamente la volontà del governo non era quella di eliminare l'Imu ma come vi diceva Roberto si sono verificate queste stranezze di questa legislatura una di queste sono le larghe indese quindi il signor Berlusconi che aveva promesso addirittura di restituire l'Imu agli italiani doveva per forza quindi l'accordo uno degli accordi che hanno fatto era quello di dover eliminare obbligatoriamente l'Imu pur non essendo neanche la principale noi avevamo nel nostro programma l'abolizione dell'Imu tanto che noi non ci siamo imposti anzi abbiamo collaborato ma secondo noi non era la priorità perché prima potevamo andare a sgravare le piccole e medie imprese facendo quell'azione di sviluppo che diceva Nuccio però loro si sono spinati su questa strada e quindi eravamo favorevoli ma non essendoci la volontà del governo in primis del ministro dell'ex ministro questo cammino è stato abbastanza tortuoso ed è giunto nella sua fase finale nel famoso decreto Imu Banca Italia che ha svelato molte carte di quelle che sono ciò che loro usano normalmente fare nella loro attività parlamentare cioè il fatto cioè intanto ha svelato che noi siamo effettivamente opposizione avevano avuto già la prima bisogna durante il decreto del pare dove noi abbiamo continuato a fare le nostre nottate hanno avuto il secondo avviso durante le vacanze di Natale in cui c'era il famoso decreto Salva Roma che è stato fatto decadere dalla monità stesso però perché hanno capito che noi saremmo rimasti lì anche durante le vacanze natalizie di lavorare per decadere quello lì che era una delle tante portate che ci hanno presentato hanno avuto la terza scusate non c'è più senza tre hanno avuto la terza conferma durante questo decreto in Banca Italia ora vi voglio un po' spiegare non tanto quello che è successo come contenuto perché più o meno lo abbiamo capito cioè c'era questo trasferimento dalle riserve che sono dello Stato al capitale diciamo della Banca d'Italia gli azionisti e la Banca Italia che è una SPA sono le banche private quindi tramite non direttamente ma tramite dividendi e varie rivendite di queste quote le banche otterranno una liquidità diciamo forzata indotta non una liquidità che loro sono guadagnati con la loro attività di banca ma con questo trasferimento indiretto che ha fatto il nostro Stato per paura di non arrivare a quelli che sono gli stress test che la BCE farà in quest'anno e negli anni successivi sulle nostre banche quindi noi abbiamo detto che a Pezzone diceva è un regalo alle banche noi abbiamo detto è una rapina agli italiani a favore delle banche perché è una cosa peggiore di un regalo ora per darvi insomma anche una maggiore informazione perché purtroppo il lavoro dentro le commissioni non arriva all'esterno noi abbiamo collaborato noi abbiamo abbiamo cercato durante l'attività fatta dentro la commissione di essere il più aperto possibile verso il governo e verso la maggioranza io ho avuto la fortuna di riuscire a fare il discorso la dichiarazione di voto tra il nostro gruppo prima della tagliola e io ho proprio fatto anche un accello alla Boldrini le ho raccontato cosa era successo dentro la commissione noi abbiamo presentato in commissione due emendamenti cioè quando si fa ostruzionismo si presentano una marea di emendamenti ciò sarebbero fatte le altre posizioni fintamente perché poi li indichinano noi abbiamo presentato solo due emendamenti uno andava a trovare una copertura per la minimo cioè abbiamo detto vogliamo non fare pagare l'immo gli italiani possiamo non fargli pagare la minimo passando ai giochi tra l'altro questo emendamento lo aveva dato a una nostra collega che si chiama Edera Spadoni l'Ange e l'Emilia come si fanno e tra di loro se lo dicono tra di loro hanno questo mezzo rimosso però poi gli interessi logistici sono molto più forti i soldi la Santa Chia dice tutti hanno un prezzo ed è vero loro tutti hanno un prezzo noi per averneato questo mezzo è che siamo vincoli è che siamo vincoli e che facciamo per dire come i cittadini cioè il fatto di dover voi venire in piazza a dirvi cosa stiamo facendo come ci confrontiamo con le altre cose politiche è comunque una forma di controllo che voi state citando su noi che siamo entrati lì perché vi assicuro che entrare lì e lasciarsi affascinare da questo mondo schifoso che è il sistema partitico che hanno creato è facilissimo basta rimanere brittativi e poi tornarsene a casa in confronto invece con i cittadini il fatto di doversi di dover scendere in piazza e dialogare con voi e avere questo controllo ci permette e intanto vuol dire anche il controllo fatto noi stessi all'interno del truppo ci permette di rimanere esattamente quello che eravamo prima cioè dei cittadini che vogliono andare a scardinare questo sistema quando qualcuno dice dovevamo dialogare con Renzi oppure ci dice voi sapete solo sfasciare noi vogliamo sfasciare sì se andiamo a pensare sfasciare e è il sistema ed è un sistema fatto di mafia fatto di corruzione fatto di interessi privati e lobbistici allora se mi dicono se io sono uno che vuole sfasciare io vi dico sì ma voglio sfasciare come? costruendo facendo delle proposte noi siamo gli unici che hanno proposto hanno depositato una proposta di legge per abolire l'Irape sulle micro imprese che sono il 99% del tessuto dell'economia italiana allora quando vi dicono se noi vogliamo distruggere voi potete anche dire sì però dovete specificare cosa e come vogliamo distruggere il sistema che loro hanno creato che ci ha ridotto e lo vogliamo fare con le nostre proposte che sono quelle che sono inserite dentro il programma che noi vi abbiamo presentato e per cui voi avete votato allora noi io adesso passo la parola di nuovo annuncio vi ringrazio ancora e poi spero che ci faccio delle domande e delle proposte grazie grazie a tutti cosa sta succedendo ecco dicci un po' cercherò di essere bevo perché so che non vedete non vedete l'ora di ascoltare Giampiero Trittino quindi no comunque allora a me mi verrebbe voglia di dire come funziona siccome Azzurra ha cominciato dicendo cosa succede in Commissione Finanza ci ha raccontato cosa succede in Commissione Finanza l'analoga diciamo Commissione in Sicilia cosa succede che un nostro deputato del Movimento 5 Stelle siccome fa rileva diciamo al Presidente dell'irregolarità nel regolamento e nel fattore non lo rispetta e quindi si dovrebbe rimettere la risposta che ottiene dal Presidente della Commissione Finanza cioè tu ma puoi fugare ma a 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 ora ora ci dicono spesso di non essere collaborativi di non voler dialogare di non voler presentare fare qualcosa con le altre forze politiche ma questo è assolutamente falso c'è una differenza tra condividere un progetto politico e condividere un'idea o condividere un emendamento o condividere un provvedimento e il caso per esempio dell'abolizione delle province in Sicilia è la costituzione dei liberi consorsi ora noi nonostante l'anno scorso siamo stati gli unici a insieme alla lista Musumeci a presentare una mozione di sfiducia contro questo governatore per mandarlo a casa nonostante questo tra l'altro sapete che da noi la situazione è un po' diversa perché lui non ha una maggioranza la maggioranza ce l'ho tutta semplicemente quel giorno in cui c'era da votare la sfiducia e il vele figlio andavo da tutti i deputati e dicevo ma scusate ma non vi lamentassi sempre di questo governatore e tutti mi rispendevano nello stesso modo guarda se il mio voto fosse determinante io voterei per la mozione di sfiducia peccato che l'ho chiesto a più di 46 persone che è la metà più in uno di queste quindi tutti i voti erano determinati eppure quel giorno non ce l'ha venuta la maggioranza comunque nonostante noi siamo stati gli unici a presentare una mozione di sfiducia contro questo governo del nulla fondamentalmente abbiamo accolto con diciamo con interesse la proposta di abolizione delle province la costituzione dei liberi consorsi non perché sia una buona idea ma perché ce l'abbiamo nel programma cioè i cittadini che ci hanno votato sanno che noi siamo per l'abolizione delle province e la costituzione dei liberi consorsi il primo punto della stella cittadini nel nostro programma quindi inizialmente siamo stati favorevoli è arrivato tempo fa ma si parla di sette o otto mesi fa un disegno di legge del governo che sembrava anche interessante perché costituiva tre liberi consorsi in tutta la Sicilia corrispondenti alle tre valli e due e tre città metropolitane con un sistema devo dire europeo perché riduceva il numero dei comuni riduceva non solo eliminava completamente la classe politica ma riduceva anche il numero dei consigli comunali che diventavano municipi era un sistema abbastanza avanzato ovviamente apri di cielo che cosa è successo per questo disegno di legge tanto la rivolta dei sindaci giustamente ma soprattutto questo disegno di legge ha subito una trasformazione completa in commissione dove è diventato semplicemente trasformazione delle province in liberi consorsi cioè ci cambiamo nome allora questo non è assolutamente quello a cui avevamo pensato noi a noi a questo tipo di soluzione non siamo assolutamente favorevoli però qual è il bello che in questo momento siccome la polizia delle province in assemblea non le vuole nessuno noi siamo determinati quindi non solo abbiamo inserito e abbiamo votato favorevolmente alla costituzione di nuovi liberi consorsi oltre a quelli già costituiti che potranno cambiare ma abbiamo inserito facendo andare sotto ben tre volte la maggioranza abbiamo inserito anche il referendum confermativo quindi se un comune delibera di andare con uno o con un altro consorzio dovrà chiederlo ai cittadini e dovrà dire ai cittadini che ha fatto con un consorzio a parte che non tutti i comuni dovranno fare il referendum così come se quando il referendum si fa sull'acqua pubblica rifatto le elezioni provinciali ma quando si parla di democrazia e quando si parla di facendo i cittadini se un piccolo questo è c'è vuol dire visto che riguarda il futuro non solo nostro ma delle prossime generazioni ma spendiamoli visto che se ne sfregano per tante altre cose dentro il Parlamento noi l'abbiamo registrata e abbiamo spuntalato questo signore a destra e a sinistra da soli perché i giornali non erano completamente da soli e quando i cittadini chiamavano le testate dei giornali per dirgli scusate ma perché non scrivete il nome di questo che si chiama Tivelli che è facile perché non lo scrivete le testate giornalistiche rispondevano la lina editoriale è quella di non scrivere il nome di questo signore ma scusate ma qual è la lina editoriale di un paese civile se non quella di denunciare atti ignobili come quelli commessi da questo signore quindi la Corte dei Conti che è l'ente costituzionalmente stabilito per legge che controlla tutti i conti pubblici ieri finalmente ha emesso questa sentenza in realtà non è una sentenza impositiva perché non obbliga il Parlamento e il Governo a fare qualcosa e cosa dice? Dice che c'è un buco di 13,6% 7 miliardi ma non 1,2 13,7 miliardi cosa fareste voi in Italia con 13,7 miliardi? ecco noi faremmo un reddito in cittadinanza e allora noi ieri ci siamo guardati e abbiamo detto cavolo noi che solo avevamo ragione ci avevamo visto più lungo di tutti gli altri e avevamo scritto Napolitano avevamo scritto La Boldrini avevamo denunciato l'atteggiamento dei due presidenti di commissione ignobi uno quello della Camera boccia è quello che scambia gli elicotteri per gli F-35 e ve lo ricorderete l'altro invece al Senato e Azzolini quello che fa il porto fantasma mettendoci sotto i rifiuti quelli quelli sono le persone che gestiscono i soldi pubblici dell'Italia quindi noi abbiamo chiesto le dimissioni di questi due personaggi ma quello che più ci fa arrabbiare è che noi l'avevamo detto e che quando lo dicevamo noi ci fischiavano ci prendevano in giro si va bene a voi adesso siete arrivati è sempre funzionato così due soldi di qua due soldi di là l'associazione eccetera noi eravamo talmente arrabbiati che abbiamo detto subito facciamo un esposto perché questa cosa va denunciata e lì ci siamo accorti che un deputato singolo un deputato singolo come noi non può denunciare a nessun organo il fatto che il Parlamento fa una legge contro la legge non si può fare io non posso andare a denunciare una cosa che secondo me non va di una procedura contabile e quindi abbiamo detto vabbè speriamo che le nostre grida siano servite effettivamente ieri abbiamo appreso che sono servite ma questo fa parte di quella di quello schifo che noi viviamo tutti i giorni e devo dire che è anche un po' angosciante perché io sono stufa di andare in commissione di bilancio e pensare che un'azienda privata se facesse le cose che fa oggi lo Stato con i suoi soldi sarebbe chiusa fallita e la gente che nel CdA sarebbe in talera e se lo Stato si può permettere questo allora se lo poterà permettere con un sacco mani e se lo permetterà adesso con Paduan il signor nessuno perché nessuno lo conosce ma che appartiene alle vecchie logiche dei buon D'Alema e Amato per cui noi siamo un po' fallosi su questi temi economici però una cosa è certa che questa gente di questi soldi ha sempre fatto ciò che ha voluto e questa musica adesso è cambiata e noi dobbiamo dobbiamo dirlo alla gente guardate che c'è qualcuno che tutti i giorni là dentro insieme a noi controlla come vengono spesi i soldi perché sono i soldi delle mie tasse delle vostre tasse a Roma buonasera buonasera a tutti mi sentite? io mi chiamo Alessandro Dei Battista e sono vostro dipendente in Parlamento e se iniziamo a ragionare a capire come cittadini che chi sta alla Arso al Parlamento o a Roma sono nostri dipendenti cioè se i cittadini iniziano a pensare di essere dettatori di lavoro perché lo sono probabilmente iniziano a capire di avere dei diritti di poter essenzialmente controllare il potere quel palazzo è una vasca di squadri o controlliamo i nostri dipendenti all'interno del Parlamento oppure sarà molto molto più probabile che i propri dipendenti si possano contaminare con quel sistema io vi vorrei dare dei come dire ho fatto vari ragionamenti negli ultimi giorni e nelle ultime ore e vi vorrei condividere un ragionamento con voi qualche anno fa un giovane politico proveniente poi da ambienti legati alla democrazia cristiana si presenta alle elezioni della provincia di Firenze si chiama Matteo Renzi questa persona e questa persona vince le elezioni alla provincia di Firenze non fa una politica particolarmente innovativa anzi durante la sua attività politica mette alcune persone senza dei titoli di studio adeguati all'interno di posizioni dove non potrete metterle e questo gli produce una condanna da parte della Corte dei Conti per danno erariale in primo grado appunto per aver fatto qualcosa che è sbagliato finisce il suo mandato come Presidente di Regione e si candida al Comune di Firenze come sindaco è una persona piuttosto conosciuta appunto a Firenze in quanto era stato Presidente della provincia di Firenze e anche uno dei più giovani Presidente della storia italiana per cui è molto conosciuto il centro-destra decide di metterli come sfidante l'ex portiere del Mila Giovanni Galli qualcuno se lo ricorderà anche alzare la Coppa Intercontinentale nel Mila di Berlusconi un candidato piuttosto scarso c'è la campagna elettorale e nonostante Firenze sia una città rossa quanto meno il candidato Giovanni Galli riesce ad arrivare al ballottaggio che cosa succede nelle due settimane precedenti al ballottaggio D'Alema Beltroni Prodi pezzi grossi del centro-sinistra vanno a lanciare la volata al candidato sindaco di Firenze Berlusconi il quale è sempre generoso durante le campagne elettorali se non funziona poi vado a voce mi sentite? Sì 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 Berlusconi Sì 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 Berlusconi che è sempre stato piuttosto generoso durante le campagne elettorali anche perché è molto molto bravo a fare campagne elettorali questo gli va riconosciuto non va a Firenze a dare una mano al proprio candidato Giovanni Galli il candidato Giovanni Galli perde vince Renzi in realtà l'artificio di questa operazione è un massone toscano che si chiama Verdini pezzo grosso delle banche plurinquisito e uomo di fiducia di Berlusco come in tanti comuni succede il centrodestra si mette d'accordo con il centrosinistra e fa vincere un candidato del centrosinistra ad alcuni uomini politici non importa soltanto vincere magari gli importa controllare il vincitore anche se il vincitore non proviene dal proprio schieramento non è un caso che l'anno dopo Matteo Renzi va in visita privata e non sappiamo nulla di che cosa appunto cosa si siano detti ad Arcor da Berlusco poi Renzi diventa sindaco e compagna guardate che in questo sistema che io definisco di ricatto incrociato una repubblica fondata sul ricatto non è nuova quando il governatore del Lazio Marrazzo viene peccato con cocaina e transessuali a delà dei giudizi morali o etici il video che lo ritrae in posizione piuttosto scomoda con i pantaloni calati arriva preso scelto essenzialmente da Berlusconi che gli aveva fatto un favore quindi ora lo ricatta e da De Benedetti il quale oggi oggi ha dei debiti ha dei buffi come si dice a Roma è incredibile con le proprie aziende soprattutto con una sorgenia 1,87 miliardi di euro di debiti 1,87 miliardi di debiti e chiede aiuto oggi a quelle stesse banche intesa Unicredit MPS che hanno ricevuto qualche giorno fa soprattutto grazie al voto dei renziani perché non è che il Parlamento ha cambiato con Renzi i renziani e i deputati sono sempre gli stessi queste stesse banche hanno ricevuto un regalo incredibile da parte dello Stato quindi si sono ricapitalizzate con i nostri soldi io provo solamente a farvi come dire un ragionamento poi magari un ragionamento è una stupidaggine può essere sbagliatissimo però vi do degli elementi quando una dittatura sanguinaria del passato vede la fine vicino si ricompatti e utilizza il sangue la violenza le uccisioni i rastrellamenti ancora con maggiore vigore quando una dittatura governativa un sistema marcio come questo oltretutto aiutato coadjuvato da una dittatura mediatrica perché le televisioni e i giornali partengono sempre a loro basta leggere chi stanno nel Consiglio di Amministrazione della Stampa del Corriere della Sera di Repubblica chi c'è il Rai chi c'è dietro appunto la media che è certamente Berlusconi evidentemente utilizza ancora di più la menzogna solo che oggi con la rete con questa piazza a Gera di venerdì sera con questi tour andiamo dovunque con queste telecamere con questi cellulari che riprendono e mettono in rete delle informazioni e in rete rimarranno per l'eternità è più complesso per loro mentire per cui alzano il tiro e mentono ancora di più e si ricompattano tutti quanti nei confronti di Renzi che significa questo il concludo che si deve soffrire che anche se siamo stanchi tutti noi dobbiamo continuare a insistere sabbati e domeniche andare in giro in tutte le piazze dare direttamente delle informazioni ognuno di noi deve fare questo lavoro con i vicini stampando di volantini bisogna resistere bisogna resistere come dice lui con la consapevolezza che se il sistema fa tutto questo evidentemente ha paura io mi preoccuperei se non ci fosse una reazione nei confronti del Movimento 5 Stelle da parte di un sistema marcio se c'è perché significa che il Movimento 5 Stelle sta lavorando bene che tutti noi cittadini stiamo lavorando bene al di là del voto ognuno potrà quello che vuole ma questo sistema di rete di informazioni di condivisione sta funzionando dopo un po' andiamo le piazze sono sempre più piene per cui da un lato resistere lo so che è difficile da un altro lato gioire essere contenti perché come la hostess come il poliziotto come tante persone tassinari che non ci fanno pagare tanti cittadini si stanno rendendo conto della verità di quello che è diventata questa Repubblica teoricamente fondata sul lavoro ma in realtà fondata su ricatto alla luce di tutto questo di queste informazioni verificatere io potrei dirvi delle balle verificatere avete tutti gli strumenti per verificarle alla luce di tutto questo lo capite perché la nostra linea che qualcuno definisce dura ma è semplicemente coerente ma certamente intransigente di non immischiarci al di là delle proposte di dialogo delle condizioni dialoghiamo sempre di non immischiarci con questo sistema di non salire al colle di non fare un governo con Bersani tra l'altro non ci è mai stato proposto mai è una palla mai se noi avessimo magari rilanciato Bersani magari oggi Laura Castelli era sottosegretaria al Ministero dell'Economia io avrei avuto magari un ruolo importante al Ministero degli Esteri ma non contano le poltrone conta un cambio di sistema importante basato sull'informazione sulla vera democrazia e lo capite anche perché uno come Beppe che si è fatto il marzo in questi anni e che in Sicilia è venuto tanto abbia giustamente non voluto far parlare l'esempio il prodotto di questo sistema marzo l'altro ieri buoni dissidenti buoni dissidenti che cosa dobbiamo fare parlare le elezioni europee saranno fondamentali lì non c'è non ci sono accorpamenti coalizioni ci siamo noi contro tutti oggi dobbiamo capire a di là delle idee politiche fino a quando noi non capiremmo l'importanza del voglio del voglio perché noi siamo siamo abituati a pensare al nostro voto come una cosa così come sentite una X su un pezzo di carta il voto è sacro il voto è sacro ed è quello che determina la politica è quello che determina lo stato in cui siamo è quello che determina il fatto di vivere in una democrazia grazie al voto noi siamo cittadini e quando noi votiamo per noi stessi e non votiamo per gli altri facciamo un gravissimo errore un gravissimo errore si deve votare per gli altri per i nostri figli per i nostri amici per i nostri parenti non per noi e quando uno mi viene a dire ah io vi ho votato e ora mi finirei il posto di lavoro io gli dico guarda io gli dico guarda hai sbagliato la prossima volta vai da qualcun altro vai da qualcun altro perché io il tuo voto così non lo voglio e questa cosa di dare il voto dare il voto non si dà si esercita punto e basta è un esercizio di democrazia bene lascio la parola agli altri brava grazie a tutti grazie a tutti per la situazione se Cusa ha fatto un incontro a Porta Cuse con i dirigenti eni quindi non ha invitato nemmeno la stampa e quant'altro quindi a te ti chiedo sulle problematiche ambientali sul MUS che cosa si sta facendo di all'azzo scusami il tempo perché se ho questo problema è per la spalla allora innanzitutto buonasera è un piacere rivedervi io devo partire con una considerazione che ha fatto Giannina poco fa una sintesi di quello che ha detto noi siamo liberi non è utopia non è una frase fatta lì noi siamo davvero liberi la bellezza di questa libertà sta nel fatto che io rispondo della mia coscienza lo faccio come cittadino come ambientalista e ora come presidente di commissione quando mi si trova davanti un problema io non devo andare a vedere quanti voti tolgo dal mio portafoglio non l'ho mai fatto non lo fa nessuno di noi la cosa bene è che lo facciamo secondo coscienza lo facciamo perché lì ho scritto un programma sul quale crediamo poi all'interno scusa e rispondiamo soltanto a quello e credetemi non lo dico qui perché devo guadagnare voti tra l'altro nel mio elettorato lo dico perché è la verità è la pura verità ora ve lo dimostro con dei fatti Nuccio poco fa mi parlava del muos e ora vi rinfresco il muos ve lo rinfresco non per perché voglio parlarvi di cose noiose che conoscete bene ma per un motivo molto semplice attenzione una delle armi migliori che ha la vecchia politica questo l'ho scoperto l'ho scoperto da un anno una delle armi migliori che ha la vecchia politica è l'ignoranza la politica vive di ignoranza della nostra ignoranza e la seconda cosa di cui vive è il silenzio sono passati sono passati tre anni dal disastro di Fukushima si diceva addirittura che non si doveva nemmeno comprare più il tonno del pacifico se voi vi andate a vedere il record dell'istituto mondiale di sanità si dice esattamente il contrario non bisogna nemmeno acquistarlo nemmeno guardarlo il tonno confezionato al pacifico perché il problema non si è spento perché noi ce ne stiamo dimenticando perché non ne parla più nessuno ecco l'ignoranza la stessa cosa lo fanno a livello locali nostri politici lo fanno con i muos lo fanno sull'urbanistica lo fanno sulle noi qua siamo a due passi da uno dei più grandi sin del mondo i sin sono i siti di interesse nazionale Siracusa è uno dei più grandi sin d'Europa e del mondo 30 km di area industriale completamente devastati i più alti livelli di tumori li abbiamo in Sicilia questo non lo dico io per farvi spaventare questo lo dice l'istituto sicuro e di sanità ok il fatto di non parlarne agevola molto perché se io non ne parlo non spunto il problema e non lo devo risolvere ecco da un anno noi siamo a Lars da un anno sono presidente della commissione ambiente abbiamo fatto diversamente alla camera abbiamo fatto diverse leggi proprio per l'ora hanno la decretazione d'urgenza che è questa cosa schifosa che noi fortunatamente non abbiamo però guardate che cambiare la Sicilia con delle nuove leggi è davvero difficile perché noi qui dobbiamo ripristinare uno status soquante che è davvero terrificante noi abbiamo delle aree degradate la gente muore perché per 40 anni 50 anni la politica industriale ha dettato leggi sopra tutte quelle che sono le materie ambientali sulla salute la materia ambientale della salute in Sicilia non è mai esistita l'altra volta io mi trovavo a parlare con un deputato della mia commissione che mi diceva alla fine di un'audizione ebbe presidente avverbale chiaramente ebbe presidente in effetti la coscienza ambientale sta nascendo minchia sta nascendo ma stiamo scherzando ma Rio de Janeiro ma Stoccolma ma stiamo scherzando noi siamo nel 2008 e ancora oggi si parla dell'idea che sta nascendo la coscienza ambientale quando nel resto del mondo la coscienza ambientale è sulla bocca di tutti quindi voi mi rendete conto che noi abbiamo di fronte una classe politica che sta avendo un'idea generale su cosa sia l'ambiente perché noi ancora pianificiamo il territorio delle strategie industriali considerando l'ambiente e la salute dei cittadini come se fosse l'ultima cosa guardate che è veramente così non è che lo dico tanto bene ora ve lo spiego il MOSS è un caso eclatante il MOSS è nato come battaglia ambientale poi è diventato battaglia di giustizia oramai noi abbiamo esportato questa cosa del MOSS a livello europeo io ho fatto un'interrogazione al presidente Tocnik della commissione europea perché abbiamo detto ok non ci ha ascoltato a crocetto non ci ha ascoltato lei capito che si è ascoltata in Europa nemmeno là ci stanno ascoltando però noi continuiamo il caso del MOSS è una cosa fantastica solleviamo la questione crocetta ci vince le elezioni parliamoci chiaro noi facciamo battaglia perché ci crediamo in questa battaglia e continuiamo a farla anche oggi chiedetemi perché crocetta non ne parla più se ormai l'ha provato ha vinto le elezioni noi perché stiamo continuando a lottare per queste cose perché siamo libri perché non ci interessa perché noi crediamo che è la salute dei misce mesi così come di tutti i siciliani è più importante di vincere le elezioni è semplicemente proprio non ci sono altri motivi allora in due parole come lascia la storia del MOSS lo dico non per annoi ma per ricordare perché noi non dobbiamo dimenticare le cose non si parla più del MOSS così crocetta cosa fa non ne parla più fra sei anni torna a miscemi e magari qualcuno lo vota no non lo dovete votare ma non perché io sono votato nel 25 stelle perché io vi sto parlando da ambientalista da persona che crede nella tutela dell'ambiente noi proprio cosa succede all'indomani delle elezioni presentiamo una mozione la presenta anche il PD bisogna essere onesti queste mozioni vengono integrate vengono votate all'unanimità crocetta che fa sospende i lavori noi ci rendiamo conto che era una cosa inutile a sospendere i lavori allora cosa facciamo chiediamo con una nota di revocare non mi dimenticherò mai quella telefonata che fece all'avvocato di crocetta spiegando la differenza tra sospensione in autotutera e il revoca in autotutera non la sapeva gliel'abbiamo spiegata dopo qualche mese revoca si rende conto che in effetti è una cosa gravosa cosa succede il ministro dell'interno va al TAR fa il ricorso per sospendere il provvedimento di revoca e la vinciamo la causa quindi dopo abbiamo vinto la causa perfetto cosa fa il ministro dell'interno ovviamente fa il ricorso verso la decisione di primo grado l'impugnativa è una cosa che fanno tutti gli avvocati anche quello che si è avvenuto il giorno dopo il ministro dell'interno manda una nota a crocetta e gli dice se tu revochi la revoca io non ti chiedo il risascimento del danno però contemporaneamente cosa succede arriva questo è un passaggio importante arriva una nota del verificatore di un altro processo il professore d'amore il quale dimostra scientificamente che ci sono sei rischi per la salute dei cittadini applicazione dei principi di precauzione uno più uno fa due cosa fa il progetto il giorno dopo revoca la revoca revoca la revoca semplicemente perché arriva un documento dell'istituto superiore sanità che dice ci sono delle possibili conseguenze per la salute dei cittadini possibili conseguenze che però comunque dovrebbero essere verificate perché si tratta di dati teorici cioè loro hanno studiato su dati teorici gli effetti sulla salute dei cittadini è come dire va bene intanto le mettiamo queste antenne poi sull'appellare dei cittadini venivano secondo me non fanno fatto e che succede il progetto dice questa è scuola circolare con la quale si fa la regola allora dice è stato scientificamente provato che non ci sono più i danni alla salute e la con le antenne spende le antenne non sono nemmeno accese sono tutti dati teorici però intanto noi le antenne le montiamo e cosa fa con la recenza questa è la più bella dell'altra attenzione lui revoca la revoca io vado dal progetto e dico ma come stavamo vincendo ti abbiamo dato tutte le carte per vincere e lui forse sono stati scemi che l'ha detto vabbè ma voi fatemi causa cioè fatemi causa ci ha chiesto di fargli causa e noi l'abbiamo fatta noi l'abbiamo fatta causa il 27 marzo e lei era convinto di trovare dei bambini e il problema è che sono avvocato quindi mi veniva facile sti arrivando e mi ha fatto ok non l'ho scritto chiaramente non l'ho scritto dei validissimi avvocati che hanno collaborato con il movimento il 27 ci sarà l'udienza capace che la vinciamo immagini la soddisfazione lui chiaramente si dovrà inventare qualcos'altro però la cosa qual è qual è la sintesi di tutto questo discorso che lui ha giocato sulla nostra ignoranza mi ha detto vabbè ma cosa non devono capire che sia il momento 5 stelle che gli revoco la revoca poi gli faccio ricorso al Tare poi ricorso al Gigi ah no è facile se tu sei un percorso logico la soluzione è l'altra e noi l'abbiamo trovata noi ci siamo spostati dal profilo politico a quello giudiziario perché noi diamo anche così noi facciamo tutte e due cose perché in questa terra purtroppo la politica serve ma non completamente poi bisogna andare dai magistrati bisogna andare dai magistrati noi andremo dai magistrati anche per le bonifiche sull'amianto sapete quanti miliardi poi sono stati distanziati 60 milioni di lire 60 miliardi di lire quando c'era la lira e poi altri tanti milioni di euro per le bonifiche dei senti inquinati ma dove sono finiti questi soldi e chiediamo ai magistrati grazie철 grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.